Tutto pronto al circolo canottieri Barion per il via del campionato italiano di maratona K1-C1 canoa e paracanoa e della gara nazionale K2-C2 di canoa che si disputeranno domenica a Bari. Un appuntamento molto atteso al quale parteciperanno circa 300 atleti in rappresentanza di 60 società e che sarà valido come unica prova selettiva per i campionati europei di specialità. Inseguivamo questo evento da un paio d'anni e siamo davvero contenti di averne ottenuto l'organizzazione ha detto Flavio Campobasso responsabile della sezione canoa e vicepresidente del comitato FIC Puglia. Una soddisfazione doppia ha aggiunto se si pensa che l'assegnazione di questo campionato è avvenuta proprio nell'anno che saluterà a novembre il 120esimo compleanno del circolo canottieri Barion. Un campionato di valenza agonistica notevole quindi che si svolgerà nelle acque antistanti lungomare Nazario Sauro di Bari dalle 8.30 alle 16 su un circuito di 3,6 chilometri. Oltre ai titoli italiani in palio per le specialità K1 e C1 la prova varrà come detto anche come selezione in vista dei campionati europei in programma in Slovacchia il prossimo giugno. A Bari saranno in gara i migliori atleti d'Italia alcuni dei quali in magliazzurra anche alle Olimpiadi e ha spiegato il direttore sportivo Fabio Di Cosmo. Il nostro auspicio è di riuscire a farli gareggiare al massimo delle rispettive possibilità sperando che anche il circolo canottieri Barion possa dire la sua con gli atleti allenati da Antonio Cellammare e Maurizio Campobasso. Domenica è prevista a Bari anche la partecipazione del presidente federale e vicepresidente Coni Luciano Bonfiglio.